Siracusa in auto beccato con false pettorine di polizia, passamontagna e pistola pronta a far fuoco, arrestato malvivente. Nelle scorse ore i carabinieri del comando provinciale di Siracusa hanno portato a termine un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato a prevenire reati contro il patrimonio impiegando numerosi equipaggi in uniforme e in abiti civili. Non solo i classici posti di controllo, i carabinieri si sono appostati a bordo di autovetture in tinta civile nei pressi di tutti gli ingressi della città osservando con discussione tutti gli occupanti delle vetture in transito e segnalando quelle sospette agli equipaggi in uniforme per il successivo controllo. Nella zona alta della città i carabinieri del nucleo investigativo hanno notato un uomo a bordo di una utilitaria che ha attirato la loro attenzione. I carabinieri hanno pertanto proceduto al controllo, fermando l'uomo e sottoponendo la perquisizione. Il soggetto nella tasca posteriore dei pantaloni nascosta dalla camicia aveva una pistola con matricola a brasa e pronta a far fuoco mentre all'interno della vettura sono state rinvenute false pettorine in uso alle forze dell'ordine e passamontagna. Le indagini in corso accerteranno quale fosse il disegno criminale del malvivente che è stato scongiurato dal pronto intervento dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa. L'uomo su disposizione dell'autorità giudiziaria Aretosi è stato condotto in carcere.